Matteo Ciofoni dopo il ritorno alla vittoria con il Carpi si pensa alla gara di Verona, questo posticipo importante, interessante, molto atteso dai tifosi, subito una controprova sicuramente di valore per il Pescara dopo il successo con gli Emiliani. Beh diciamo che è il big match della prossima giornata, sappiamo che è una partita molto sentita dai tifosi nostri per dei ricorsi storici e quindi vogliamo fare bella figura e regalare una gioia a loro. Verona che dopo un periodo di crisi è tornato la vittoria a Benevento, prima della gara vinta al Vigorito c'era stata la contestazione dei tifosi della piazza nei confronti del presidente del tecnico, che ambiente secondo te troverete? Ma Verona a mio avviso è una delle squadre più attrezzate per qualità di organico, però anche loro hanno avuto un periodo di appannamento come l'abbiamo avuto noi, come lo avranno anche altre squadre, quindi la differenza lo fa sempre come si superano questi momenti, sicuramente troveremo un ambiente caldo perché come ho detto una partita molto sentita alle tifoserie e sarà sicuramente una bella cornice di pubblico. Matteo Ciofoni spera di tornare in campo dal primo minuto alla Bentegodi? Beh certo, io spero di giocare sempre perché sono abituato a farlo e spero di farlo anche qui. Nella gara con il Carpi Pescara non ha subito gol, è stata credo la terza volta in stagione questa difesa che nonostante qualche assenza si sta dimostrando comunque affidabile. Sì sì assolutamente, è stata una buona vittoria, non facile perché le squadre di Castori sono sempre difficili da affrontare perché non ti fanno giocare bene, però abbiamo giocato bene. Sono contento anche dell'esordio di Scognamiglio che sicuramente è un difensore di assoluta affidabilità per questa categoria, però ci siamo tutti e speriamo di dare una mano a tutti. Il LON dice che mancano 20 punti alla salvezza, però i tifosi pensano ad altro. Ma per parlare di altri discorsi dobbiamo passare assolutamente prima per la salvezza, quindi facciamo step dopo step e poi vediamo arrivato a un certo punto della stagione dove ci troveremo. Siamo partiti bene, sappiamo comunque che possiamo dire la nostra in questo campionato, però dobbiamo passare per quello step.